E' la prima ripresa Grazie 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 Seconda ripresa Grazie 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 S profondo del centro. Scesca, Next. Pi, 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 Pocci, posici, Lvidare! No! O! Grazie. bravo 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 è la terza ed ultima ripresa bravo 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 Vieni! Vieni! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo al verdetto. Vince questo incontro ai punti all'angolo rosso, Cali Ferra.